Diceva Albert Einstein, non conosco le armi della terza guerra mondiale, ma solo quelle della quarta, sassi e bastoni. Salve amici, fermatevi per favore che vi racconto cosa è successo laggiù in ballata l'altra sera. È arrivato in paese uno che ci ha riportati all'età della pietra, che era diecimila anni fa e guardate con attenzione il suo lavoro. Con un semplice sasso si mette a battere un altro che è selce. Conosce bene i suoi semplici strumenti perché per battere usa anche un corno di cervo. Ci vuole abilità per fare questo. Colpo dopo colpo nasce nelle sue mani una vera lama, affilatissima come una lametta. Osservate. Alla fine lavora di precisione pian piano per creare la punta di una freccia. Ecco il risultato. Con questo sistema ha mostrato che si costruivano le frecce, coltelli, taglierini e addirittura un falcetto per tagliare l'erba. Questa era l'età della pietra e dopo pian piano i nostri antennati hanno scoperto i metalli e quindi tutto è cambiato. Ciao amici! Ciao!